ciao a tutti oggi prepareremo i filetti di troda salmonata con patate il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono filetti di troda salmonata patate olio succo di limone rosmarino prezzemolo scorza di limone menta aglio sale pepe e acqua andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la menta il prezzemolo gli aghi di rosmarino l'aglio la scorza di limone ed azionare il bimbi per 5 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio il sale il pepe e il succo di limone ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 4 mettere da parte senza lavare il boccale mettere l'acqua chiudere con il coperchio posizionare il varoma con le patate e i filetti di troda salmonata spennellare la superficie dei filetti di troda con l'emulsione chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti temperatura varoma velocità 1 i filetti di troda salmonata sono cotte le patate sono cotte impiattare e servire filetti di troda salmonata con patate grazie e alla prossima ricetta è è è è è è è è è Grazie a tutti.